Entrati nella seconda fase, anche i processi lentamente riaprono i battenti. Riprendono i principali che si tengono a Caltanissetta. Sarà giugno il mese in cui ricominceranno. Il 3 è prevista l'udienza di ripresa del processo a Silvana Sagute e altri 14 imputati. Processo è arrivato alle ultime battute finali. Prima dello stop forzato erano previste le ringhe dei difensori. Il primo a discutere sarà l'avvocato Giuseppe Dacui, difensore di Francesca Canizzo, ex prefetto di Palermo. Gli avvocati difensori dei due imputati principali, Silvana Saguto e Gaetano Cappellano Misseminara, Nini Reina e Sergio Monaco, discuteranno il primo nell'udienza dell'otto per la prima parte della discussione ed il secondo, ovvero Sergio Monaco, per ultimo dopo tutti i colleghi delle difese. L'udienza del processo al cosiddetto sistema montante è stata fissata per il 18 giugno. Sono imputati in 17, non c'è Antonello Montante che è già stato condannato con il rito abbreviato a 14 anni. Per lui ed altri quattro il processo d'appello è stato fissato il 6 di luglio. Al 3 luglio è andata l'udienza per il depistaggio delle indagini di Via D'Amelio. Le udienze si terranno nell'aula bunker prima dell'ingresso in aula, secondo le nuove disposizioni sanitarie, controllo della temperatura, una volta dentro, guanti e mascherine, distanziamento fra i protagonisti processuali, naturalmente niente pubblico.